Sulla vicenda inerente il caso Regini, nuove reazioni arrivano dall'Egitto. Infatti il ministro degli esteri egiziano ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni fatte rivedutamente dal suo omologo italiano Gentiloni in merito alla vicenda. Questi commenti di Ceno riflettono i comuni interessi dei due paesi o l'ampiezza della collaborazione offerta dalla parte egiziana in questo caso. Ricordiamo che nei giorni scorsi lo stesso ministro degli esteri Gentiloni aveva detto che non sarebbe stata abbassata la situazione di alta importanza in merito al caso della morte del ricercatore italiano. Intanto i tabulati di alcuni dei 13 cittadini egiziani ritenuti di interesse dagli inquirenti romani sono stati consegnati alla procura dai magistrati del Cairo. A procedere all'invio degli atti è stato il ricercatore generale della Repubblica egiziana dopo la richiesta della seconda rogatoria internazionale inoltrata dalla magistratura romana lo scorso 14 aprile.